Circa il 74% degli esercenti intervistati ha dichiarato di accettare pagamenti digitali. Poi non ho detto che non abbiano un post magari l'anno e non lo vogliono utilizzare come strumento per principare la loro offerta di accettazione del pagamento. Questo dato ha avuto una crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Juan, eccoci. Luca, ce l'abbiamo fatta. Allora, nonostante la mia tecnologia che mi ha un po' lasciato a piedi stamattina, ce l'abbiamo fatta. Allora, parliamo di pagamenti oggi, parliamo di pagamenti. Anzitutto, di cosa ti occupi tu in Visa, che è anche main partner del progetto ilbusiness.com e ero curioso di dare anzitutto un outlook all'esterno di quella che fosse la tua principale competenza. Mi occupo di una cosa per me molto interessante, che è lo sviluppo di tutte le opportunità con quelli che noi chiamiamo merchant, a partire dagli esercenti più piccoli fino ai grandi, grandi player conosciuti da tutti i grandi brand. Ed è un'esperienza, dicevo, molto interessante, anche nuova per Visa, nel senso che non è un settore sviluppato come quello delle relazioni con le banche, che va avanti da sempre. E quindi c'è molto da imparare, molto da scoprire. È un'esperienza bella. Merchant, diciamo, nel gergo nostro, sono chi vende, in sostanza. Non il consumatore che compra, ma chi vende, che sia il piccolo negozio o la mega multinazionale. Assolutamente sì. E vende a prescindere, cioè può vendere su un sito, può vendere in negozio, vende in qualunque momento. Con qualsiasi, soltanto qualsiasi canale. Quando si parla di pagamenti, Luca, a volte la sensazione è che, come dire, sia così standard ormai, se uno pensa da quanto tempo si paga, no? Non so, con la carta di credito, cose così. Per noi è normale, insomma, non è una cosa che dici. E quindi è una sensazione che, da un lato, magari un'azienda come la vostra, fa carte di credito. Dici, ah, sono quelli che fanno le carte di credito. E dall'altro lato, la carta di credito è un pezzo di plastica, c'è il cipino dentro, insomma, più o meno c'è poca roba tecnologica dentro lì. Aiutami, aiutaci a capire che cosa succede dietro le quinte. Cioè, qual è la realtà oggi che magari sfugge a molte persone? Hai toccato due punti interessanti. Innanzitutto il pagare, che ha una controparte, no? L'essere pagati, quindi il ricevere il pagamento. E queste due cose devono andare, devono essere considerate insieme, devono andare insieme. Quindi c'è il primo aspetto. E l'aspetto che le tiene insieme è l'evoluzione di quello che tu chiami le carte di credito, no? Un'azienda che fa carte di credito è proprio la tecnologia. Oggi, nell'ambito dei pagamenti, si parla sempre più di paytech, no? Quindi della tecnologia applicata ai pagamenti. E' veramente dietro al semplice gesto di avvicinare una carta verso il terminale. Oggi addirittura il telefono o l'orologio, no? O altri meccanismi. E scatenare l'accettazione del pagamento ci sta un mondo tecnologico molto, molto complesso che ha negli ultimi anni subito una evoluzione molto veloce, come oggi è la tecnologia, e molto importante. Spesso gli esercenti, per una serie di ragioni, non percepiscono la complessità di tutto questo meccanismo del pagare, dell'essere pagati, perché la cosa importante è essere pagati e ricevere il pagamento. Oggi la tecnologia, oltre a garantire che il pagamento venga effettuato con tutti gli elementi di sicurezza, permette anche di aggiungere, di ampliare la scelta, perché poi sia il consumatore che paga, che il commerciante che viene pagato, vogliono avere un'ampia scelta di opportunità. E la tecnologia ha fatto proprio questo, ha allargato lo spettro dell'opportunità del pagamento e della ricezione del pagamento. Che cosa vedi, Luca, di diverso, diciamo, negli ultimi anni? Perché io da utonto, diciamo, da consumatore normale, che cosa vedo di diverso? Vedo il contactless, che prima non esisteva, anni fa non esisteva, e oggi arrivi e tap, 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 o Apple Pie di turno, cioè vedo queste differenze qua. Tu, diciamo, da insider, da detto ai lavori, quali sono, quali diresti che sono le principali evoluzioni tecnologiche di questi anni? Beh, già il contactless e il pagamento col telefono sono due rivoluzioni epocali, no? In Italia, soprattutto, fino a poco tempo fa, pagare con una carta contactless sembrava una cosa veramente del futuro. E mi ricordo quando il commerciante chiedeva, vuole pagare contact? Oggi questa cosa non succede più. In effetti, nella loro testa, tu avvicinando la carta al terminale, crei un contatto, no? Quindi, di contactless, non è percepito come un'esperienza contactless. Però, tutto questo si è velocizzato oggi, puoi pagare ovunque, no? Con questo semplice gesto. Il passo successivo è stato utilizzare un telefonino per pagare, quindi inserire una carta all'interno di un wallet, creando un sistema fortemente sicuro per chi paga. Quindi, tutto l'utilizzo della tokenizzazione che va a sostituire i dati carta. Non voglio entrare nel tecnicismo, voglio rimanere su un ambito semplice. Però, anche questa è una rivoluzione. Io oggi vedo tantissime persone che non usano, non tolgono più la carta dal portafoglio. C'è un gesto che viene meno. Si utilizza il telefonino. Abbiamo condotto un piccolo studio, quindi quello che ti racconto è quello che i commercianti, gli esercenti, ci hanno raccontato. Ad un certo punto, anche gli esercenti hanno avuto la volontà di acquisire tecnologia. Quello che noi, in Gego, chiamiamo digitalizzarsi. Quindi, digitalizzare significa inserire la tecnologia all'interno del sistema. Pago, vengo pagato. Più della metà degli esercenti con cui noi abbiamo avuto interazione, ci ha letto, noi siamo a favore della tecnologia perché ci porta dei benefici. Quali sono questi benefici in maniera molto semplice? Sono la sicurezza di essere pagati. Quindi, che invece, visto l'atto esperto del settore, è tutta quella tecnologia che ti garantisce che una transazione avvenga in maniera sicura e protetta. E vada a buon fine. La semplicità, quindi la possibilità di essere pagati in maniera semplice, come dicevi tu, con un gesto contactless. Ma poi un beneficio molto importante. C'è stato un impatto anche sui guadagni, sul fatturato. Vedendola dall'altra parte, cioè vedendola dal lato di quelli che già non hanno sentito molto la crisi, perché poi la tecnologia ha traghettato molte piccole realtà all'interno della crisi. C'è una parte di aziende o di piccoli esercenti che ha sentito la crisi, ma in maniera minore. E questo è successo, tra le altre ragioni, proprio perché erano già digitalizzati. Cioè, avevano già la possibilità di offrire un ampio spettro di accettazione e di pagamenti, ma erano soprattutto online, perché anche la parte online è una parte fortemente tecnologica. E in Italia, prima della pandemia, non era così sviluppata. Una cosa sulla quale ragionavo l'altro giorno in aeroporto, mentre c'era una mega coda a un, non so se era un pret-à-manger o un cost, insomma, uno di questi, diciamo, negozi dell'aeroporto dove vai a berti caffè, c'era una coda infinita. E la cosa che notavo era la velocità di esecuzione di questi signori. La velocità sia nel servire, preparare caffè, quindi era insomma una macchina clamorosa di organizzativa dal punto di vista produttivo, ma anche di pagamenti. Cioè, col fatto che tu paghi i contali, se avevi gente che arrivava pa-pa-pa-pa e immaginate invece fare la stessa operazione che uno tira fuori il portafoglio, prende i contanti, dai rest... Cioè, in un'ora, matematicamente, non puoi servire lo stesso numero di persone, anche se tu fossi Speedy Gonzales. Quindi è incredibile come cambia proprio la quantità di fatturato che puoi fare in base al tipo di pagamento che usi. E anche il tipo di pagamento determina anche cosa compri. Perché sei qua in UK da sempre, prendi, non so, il pacchetto di Cic e paghi con la carta. In Italia, invece, per anni non era così. Uno diceva, oh, aspetta, minimo, devi comprare, non so, X, perché se no c'ho le commissioni. Quindi era un mondo proprio diverso. Così invece tu spendi molto più facilmente e compri magari cose che prima dicevi, no, aspetta, non c'ho i cosi, i due euro, quello che è. Quindi è interessante vedere anche la dinamica psicologica, ecco. Assolutamente. L'aeroporto è, per definizione, un posto di velocità. Ci sono persone come me che arrivano magari ore prima perché si vogliono godere, ma ci sono quelli che sono sempre, hanno fretta e quindi il pagamento lì deve necessariamente essere veloce. Ma proviamo a pensare ad un'esperienza quotidiana per chi come me viene in ufficio e va a mangiare. E ha un tempo molto limitato, no. Ti vuoi godere comunque il pranzo che può essere di lavoro o con i colleghi. E poi c'è il momento del pagamento, che è sempre un grosso problema, perché ti devi mettere in coda, perché tutti pagano nello stesso momento. E quindi abbiamo molto lavorato, l'ecosistema, diciamo, il pagamento ha molto lavorato in questa direzione. Quindi la velocità con cui tu effetti un pagamento, con cui tu ricevi un pagamento, diventa parte della tua offerta, no. Quella che noi chiamiamo user experience, quindi l'andare a comprare, l'andare in un ristorante, ha riconosciuto che il momento del pagamento è un momento fondamentale di questa experience. Non è che se mangi bene e poi ci metti mezz'ora a pagare sei contento. È vero, hai mangiato bene, però ci hai sempre messo mezz'ora a pagare. Quindi è sicuramente la tecnologia ha aiutato fortemente a velocizzare, ma non solo, a fornire anche delle varianti, degli elementi di variazione del pagamento. Pensa ad esempio alla possibilità di pagare il conto dal tavolo. Una volta c'erano, ci sono ancora i post portatili, quindi il post prima era collegato alla cassa, ma non lo potevi spostare, dovevi andare in cassa. In Italia succede ancora, ti prendono la carta, te la portano e poi te la riportano. Cosa che in UK sarebbe impensato. Ti arrestano, non lo puoi fare, non ti arrestano se prendi la carta. Qui c'è ancora molta fiducia. Poi il post si è diventato viaggiante, e arrivo, prendo il post e arrivo al tavolo. Oggi la tecnologia ci ha aiutato in questo senso. Ti faccio un esempio. Il telefonino, il nostro mobile, e quello con cui tu paghi, diventa un post. Lo puoi utilizzare per, se sei un esercente, per ricevere i pagamenti, con la tecnologia Tap to Phone. Semplicissimo, ti scarichi una app, la attivi, con uno dei provider di pagamento, ce ne sono tanti oggi attivi anche in Italia, e quindi puoi permettere alle persone di pagare comodamente dal tavolo. Addirittura senza aggiungere un pezzo di hardware, quindi non hai più un post aggiuntivo, non è più una macchinetta da portarti, è il tuo telefonino, che magari addirittura è quello con cui prendi anche gli ordini. Quindi il palmare, come lo chiamano molti ristoranti, ti permette di scorrere il menu, fare le tue scelte, gestire i tavoli e pagare. Ecco quindi che l'esperienza del pagamento diventa un continuum con la tua esperienza. Questo vale nei ristoranti come vale nei negozi retail. Hai Luca un feedback rispetto alla situazione italiana, se la paragoni con altri paesi, perché diciamo empiricamente io vedo un'ovvia differenza tra Inghilterra dove vivo e Italia quando vengo, proprio a livello di, so, utilizzo ecco dei pagamenti, mi sembra tutto, i contanti non li uso, non so da quanti anni, non ho proprio un pound in tasca, ecco, perché non c'è mai un'occasione dove dici, forse a scuola, ecco, non so, quando devi dare un pound per la, so, per qualche attività, la fiera scolastica, non so, però se no è tutto digitale, ecco, quindi complessivamente è digitale. In Italia che situazione c'è? In Italia non siamo messi male, nonostante ci sia un obbligo di legge, lo sappiamo, ma è presente anche in altri paesi, come la Grecia e la Turchia, circa il 74% degli esercenti intervistati ha dichiarato di accettare pagamenti digitali, che poi non è detto che non abbiano un post magari l'anno e non lo vogliono utilizzare come strumento per principare la loro offerta di accettazione del pagamento. E questo dato ha avuto una crescita del 7% rispetto all'anno precedente, quindi è un paese digitalizzato, dove è possibile pagare in maniera digitale ed è sempre più possibile, questo è un messaggio chiaro. Quindi non siamo posizionati male, rispetto al campione di riferimento siamo secondi solo alla Grecia e alla Turchia, quindi più avanti anche di paesi come il UK, che tu dici sono fortemente digitalizzati, però sono fortemente concentrate le realtà in cui questo pagamento può avvenire, quindi magari grandi città come Londra, piuttosto che Manchester o Birmingham, però tutto il resto è un passo indietro. Forse in Italia questo accade nelle piccolissime realtà. L'aspettativa è un concetto secondo me interessante, perché se guardo la mia aspettativa online, ad esempio, con un'abitudine a un tempo totalmente diverso rispetto al passato, facciamo l'esempio della comicità, cioè anni fa, quando noi eravamo ragazzini, la comicità aveva dei tempi che prevedevano, cioè un'aspettativa, una preparazione della battuta, c'erano dei tempi proprio dilatati, come i film, ho visto l'altro giorno Independence Day con i miei figli, cioè mezz'ora a aspettare che arrivi l'alieno, insomma per mezz'ora ti fanno l'introduzione. Oggi se ti sposti su YouTube, MrBeast fa un video sull'alieno, nel primo frame, ecco l'alieno, cioè dritto secco così, cioè il tempo è proprio cambiato, la velocità, oppure pensavo agli internet degli inizi che caricavi una pagina e stavi un giorno a aspettare che si caricasse la pagina e adesso se non si carica in un nanosecondo io già vado su un altro sito. Questo ha un impatto ovviamente sull'aspettativa rispetto al pagamento che è clamorosa, cioè se io schiscio un butoon per comprare qualcosa e dove ero ieri? Delivero, tipo, ordino qualcosa e ad un certo punto quello si ferma io penso wow, mi stanno fregando i dati da carta, cioè vai nel panico totale dopo due secondi e mezzo. Quindi questa è una cosa interessante che ha un impatto ovviamente anche sull'offline, cioè se poi vado a comprare negozi e sto lì, capito, dieci minuti, è chiaro che questa cosa non funziona, insomma, quindi è incredibile come l'aspettativa cambi totalmente. Ha un impatto molto forte sull'online, sicuramente, no? perché l'atto commerciante perdi quell'acquisto di impulso se hai 14 click per arrivare a chiudere una transazione. E quindi su cosa abbiamo lavorato in questo senso? Abbiamo cercato di riprodurre l'esperienza contactless anche nell'online. Click and go. Con la soluzione in questo caso si chiama click to pay che ti permette di veramente con un click chiudere la transazione restando un guest all'interno del sito del commerciante. Quindi come vedi l'online che nasce come alternativa al fisico poi prende però le caratteristiche comportamentali del fisico perché tu vuoi vivere la stessa esperienza vuoi utilizzare meglio il tuo tempo quando compri online ma vuoi utilizzare meglio il tuo tempo quando compri nel tuo fisico. Quindi sicuramente il tempo è una cosa che viene decisamente considerata nell'ambito del settore dei pagamenti. Ma quando tu Luca parli con i i merchant i commercianti commercianti non è la parola giusta con le aziende che devono vendere parlando diciamo in modo così benefici pro e contro rispetto ai pagamenti è abbastanza evidente il vantaggio che hai a meno di vivere nel 1800 è abbastanza evidente il fatto che accettare i pagamenti in modo digitale in linea con tutto quello che è la tecnologia moderna è abbastanza ovvio quali sono le eccezioni a questo? Cioè quando se parli con di me perché qualcuno dovrebbe avere un'eccezione o quali sono le motivazioni per cui ancora magari è delle realtà che invece sono restie andare in questa direzione? Io credo che si vada tutti nella stessa direzione magari con velocità diverse dipende da tanti fattori uno potrebbe essere la tipologia di clientela che tu hai o l'ambito in cui la tua attività è inserita in Inghilterra tu probabilmente paghi il caffè con la tua carta paghi il giornale con la tua carta ci sono gesti che in Italia non hanno ancora non sono ancora arrivate a quel livello di maturità e quindi si utilizzano forme alternative al pagamento digitale perché è una parte di una cultura perché è parte di un'abitudine quindi quella tipologia di acquisto per quella tipologia di clientela ha ancora delle caratteristiche di bassa digitalizzazione poi non è nemmeno semplice per esacenti comprendere tutte le soluzioni tecnologiche che vengono loro offerte e soprattutto se hai un'attività non hai neanche molto tempo per valutarle e quindi i messaggi che ci arrivano sono proprio questi attenzione che io come esacente sono interessato all'argomento però vorrei che tutte le soluzioni che mi servono non tutte in generale ma solo quelle che mi servono mi venissero offerte magari da un solo fornitore no one stop shop perché tu non hai veramente il tempo quindi la tecnologia ha creato all'interno di questo mondo di pagamenti anche una serie di player che offrono più di una soluzione quindi magari mentre prima c'era il player specializzato ti offrivo solo il terminale ti offrivo solo il servizio di pagamento ti offrivo solo il software di quel tipo oggi ci sono soprattutto in ambito di case che producono software queste società che ti danno tutto ciò che ti serve dall'altro a soddisfare la normativa la fatturazione online la firma elettronica tutte quelle cose che vengono richieste e dall'altro invece tutto quello che ti serve per gestire la tua attività e quanto a caso introdurre anche l'elemento del pagamento che non è più a se stante ma rientra in una filosofia di se vuoi marketplace piuttosto che di offerta da un unico fornitore e quindi tutte queste realtà tecnologiche che prima offrivano solo magari software per la gestione e l'organizzazione dei tavoli piuttosto che i menu piuttosto che altre cose come dicevamo prima la fatturazione elettronica e quant'altro ti offrono anche lo strumento di pagamento quindi c'è stata una grossa sovrapposizione cioè la tecnologia ha favorito anche una forte fertilizzazione delle soluzioni e di sovrapposizione quindi meno specializzazione più la fornitura di quello che sono tutte le soluzioni per soddisfare la necessità degli esercenti ti faccio tre scenari Luca vediamo se riusciamo a dare qualche suggerimento consiglio insomma alle persone in ascolto esercenti magari che sono in ascolto ipotizziamo livello base intermedio e avanzato ok livello base dell'esercente che suggerimento o che suggerimenti quali best practices possono pensare per chi magari è all'inizio di questo percorso e dice ok qua devo digitalizzarmi un attimino sono ancora un po' indietro magari la mia clientela è ancora abituata a pagare insomma con il contante o quello che è però vedo che c'è un cambio di reazione quindi mi devo come dire svecchiare da questo punto di vista in questo caso da dove parte questo soggetto beh di solito in questo scenario parliamo di esercenti che hanno bisogno di molta di semplicità di soluzioni semplici che permettano di soddisfare le loro esigenze che in questo momento non sono così sofisticate quindi fondamentalmente offrire un'esperienza di pagamento che aggiunga delle opzioni di scelta e che avvenga in maniera molto semplice senza grandi complicazioni tecnologiche quindi soluzioni per esempio che non comprendano l'hardware ma come dicevamo prima utilizzino elementi esistenti come il telefonino per accettare i pagamenti sono quelle che questa tipologia questa fascia richiede oppure soluzioni comunque semplici funzioni base ma che siano efficaci e che mi permettano di risparmiare tempo e di non aggiungere un problema laddove non tassano in più perfetto e quindi entro inizio a prendere i miei pagamenti quando poi diciamo mi sono rodato su quello e sono a un livello invece chiamiamolo più intermedio qual è il passaggio successivo? è la sofisticazione dello strumento di accettazione quindi un elemento una crescita dell'elemento tecnologico e il fatto che il pagamento diventa parte di una serie di altre soluzioni pensa per esempio al ristorante che deve avere la cassa e deve avere il post quindi aggiunge il post ma poi ha bisogno anche di gestire i tavoli di gestire i fornitori quindi cosa fa? concentra tutto fa un passo in avanzo in ambito tecnologico e utilizza quelle soluzioni cassa che oggi diventano dei marketplace quindi la cassa è come se fosse un telefonino con tante app e tu dalla cassa comandi tutto e avvicinando la carta o il telefonino alla cassa tu puoi pagare quindi la cassa diventa un post quindi in questa fascia c'è un aumento della conoscenza tecnologica un aumento della complessità perché fai delle scelte che ti portano più avanti ma ancora sei in un unico punto di contatto perché vuoi avere ancora tutto sotto controllo ok e andando invece a livello più su che cosa cosa si inserisce il passo successivo è sicuramente il pagamento in mobilità quindi soluzioni tap to phone che ti permettono di muoverti l'online con l'esperienza click to pay quindi ripetere l'esperienza contactless anche sull'online oltre che nel fisico e sicuramente un'evoluzione di interesse in tutti quegli aspetti che la tecnologia ti porta quindi risparmio del tempo efficienza quindi lavori sulla una base tecnologica molto avanzata che era quella del ristorante per introdurre elementi di gestione del tuo business quindi eliminazione delle code aumento della soddisfazione diminuzione dei tempi di pagamento movimentazione quindi della pedonabilità sul punto fisico se hai l'online la necessità di sfruttare il tempo di chi compra per spingere più prodotti piuttosto che utilizzare quei software che guidano all'interno del sito online all'acquisto fornendo dei suggerimenti di acquisto quindi c'è un elemento di sofisticazione che la tecnologia rende semplice ma che ha un impatto molto molto forte stavo giocando in questi giorni con CACPT per vedere tutta la parte di analisi dei dati hanno aggiunto un po' di funzioni dove tu puoi analizzare delle immagini analizzare e caricare un file con dentro dei dati e dire ok fammi un'analisi di questo report eccetera è incredibile come una volta che hai i dati se a quel punto li aggiungi penso no ho i pagamenti ho tutto digitalizzato le mie transazioni a quel punto posso iniziare a far correre delle analisi dei report per dire non so ok qual è il piatto più venduto in assoluto nel mio ristorante col margine migliore non so posso cominciare a fare tutta una serie di analisi che mi aiutano mentre invece negli altri scenari questa attività non la potrei fare ecco quindi anche quella interessante senza sicuramente la parte di efficientamento della tua attività di approfondimento ma poi sai più vai avanti più scopri delle nuove frontiere sarà capitato anche a te di avere questa sensazione del dire ma non ci avevo pensato da quel punto però comincia a pensarci e quindi fai un passo successivo ed ecco perché anche la tecnologia è molto veloce perché facciamo tutti dei passi in avanti continui Luca senti mi sembra che abbiamo toccato un po' tutti gli aspetti che avevo in mente nella nostra chiacchierata c'è qualcos'altro che ti viene in mente che può essere utile ricordare o abbiamo un po' segnalato i principali diciamo trend anche rispetto al mondo dei pagamenti no intanto ti ringrazio credo che abbiamo fatto una bellissima chiacchierata che spero poi sia utile per le persone che ci ascoltano il messaggio è sicuramente l'importanza della tecnologia nell'ambito dei pagamenti il trend di digitalizzazione delle piccole realtà che utilizzano la tecnologia e che porta ad uno sviluppo poi della quotidianità e risparmio del tempo che poi risparmio del tempo significa avere più tempo per fare altre cose che magari ci danno delle grandi soddisfazioni super Luca ti ringrazio moltissimo fantastico ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao